La cosa meravigliosa di Aristotele è questa concatenazione di dottrine e concetti che sono strettamente legati fra loro. Riallacciandosi alla sua teoria della sostanza, Aristotele ritiene che l'anima deve essere considerata a forma del corpo, vale a dire la materia di cui è composto un essere vivente, che l'uomo deve quindi essere considerato come sinolo di anima e corpo e la concretezza, la realtà di un ente sta appunto nel suo essere sinolo, individuo, sostanza e concretezza. Naturalmente dalla teoria della sostanza si lega anche alla teoria dell'anima e la teoria dell'anima, se è rilevante solo sul piano storico, la teoria della conoscenza, che è quella che andiamo a vedere in questo video, che si basa sulla teoria dell'anima, è centrale per lo sviluppo del successivo dibattito. Ancora una volta la teoria aristotelica è piuttosto semplice nelle sue linee generali. La teoria della conoscenza inizia con l'esperienza sensibile, con la sensazione, ovvero sia tutto ciò che percepiamo tramite i sensi, più una sesta facoltà, che è quella da Aristotele definita come il senso comune, che non ha a che fare con l'accezione odierna del termine. Il senso comune è il buonsenso oppure il, come dire, qualche cosa divulgato in un certo senso, una specie di vox populi, vox dei. Ma il senso comune per Aristotele è proprio una facoltà che permette di coordinare l'attività degli altri sensi, tatto, vista, udito, olfatto, vista. Quindi il senso comune è una funzione di sintesi fra i cinque sensi. Esempio, se riesco a legare il giallo del miele con il sapore dolce, è appunto grazie, ci dice Aristotele ha questa sesta facoltà, sesta funzione. Sulla base della singola percezione, gli esseri umani tramite una seconda facoltà importantissima, l'immaginazione, la fantasia, giungono all'oggetto. Non c'è pensiero, ci dirà Aristotele, senza immagine. Non c'è pensiero, appunto, senza immagine. Questa riflessione la dobbiamo tenere ben ferma. Ciò avviene perché più percezioni vengono, per così dire, legate assieme. Dall'immaginazione si giunge poi a un livello ulteriore di astrazione, per cui tramite l'intelletto, il nus, gli esseri umani sono in grado di passare dal singolo oggetto, che ne so, l'uomo concreto che vedo con le buste della spesa davanti a me, al concetto, cioè alla forma intelligibile di uomo. Perché ciò sia possibile? L'intelletto, il nus, deve cogliere ciò che di comune c'è in un insieme di oggetti, o come direbbe Aristotele, in un genere. Ciò che di comune c'è in un genere. E compiere questa operazione significa cogliere l'essenza di un genere. Rivediamo velocemente la teoria della conoscenza. C'è un'esperienza sensibile, c'è in quei sensi più la sesta facoltà che il senso comune. Abbiamo le percezioni, poi l'immaginazione che si fonda su queste percezioni produce l'immagine dell'oggetto. E quindi, terzo passaggio, poi l'intelletto prende il concetto degli enti. L'intelletto detto non solo nus, ma anche diano eticon. Insomma, si arriva solo alla verità per Aristotele, solo se poi l'intelletto alla fine sintetizza tutti gli stimoli sensoriali. Come si vede la teoria della conoscenza di Aristotele, che è a prima vista decisamente plausibile, tanto da sembrare a volte a tratti ovvia, un percorso che parte dalla percezione, giunge all'oggetto, infine arriva al concetto tramite un processo ulteriore di astrazione. Tutti i concetti astratti vengono sviluppati sulla base dell'esperienza sensibile. Come dire, picchiamo su questo argomento dell'esperienza sensibile anche per far vedere come Aristotele si distanzi dal suo maestro Platone, per il quale l'esperienza sensibile era assolutamente una copia della copia, era qualcosa di deteriore rispetto all'esperienza, alla visione delle idee. Tutti i concetti astratti vengono sviluppati sulla base dell'esperienza sensibile, per cui, ad esempio, si passa dall'individuare una macchia di colore in movimento, poi si comprende che si tratta di un gatto e quindi si giunge al concetto di gatto. Ma il concetto non è una pura astrazione, è tutt'altro, perché il concetto corrisponde all'essenza dell'oggetto da cui siamo partiti, all'essenza di gatto. Quindi non è una creazione della mente umana, ma è l'apprendere, l'apprendimento, l'apprensione di una qualità delle cose. C'è poi un'altra considerazione che Aristotele fa riguardo ai concetti, e che è stata poi particolarmente influente per quanto riguarda la riflessione successiva, che è un concetto, infatti, due proprietà, l'estensione e la comprensione. Le due proprietà del concetto, l'estensione e la comprensione, che sono inversamente proporzionali, più comprensione c'è e meno estensione, meno estensione, più comprensione, meno comprensione, più estensione. L'estensione riguarda a quanti individui si riferisce quel concetto. Esempio pratico. Socrate si estende, l'estensione si estende a un solo individuo. Socrate, quello protagonista delle commedie di Aristofane, quello narrato da Senofonte, è Socrate, il maestro di Platone. La comprensione, invece, è quanto precisamente il concetto denota gli individui cui si riferisce. Cioè, quanto mi fa comprendere quel concetto. Le due proprietà sono inversamente proporzionali. Socrate ha un'estensione minima, si riferisce a un solo individuo, ma ha una comprensione altissima, perché individua tutte le proprietà e le caratteristiche di Socrate. Animale, invece, ha un'estensione enorme, si riferisce a Socrate, ma anche a tutti gli uomini, a tutti i mammiferi, a tutti i rettili, a tutti gli enti, di fatto, animali, dotati di anima. Ma per questo ha una comprensione bassa. Se diciamo di un essere vivente, che è un animale, insomma, abbiamo detto come dire, una cosa molto, no? Non certo di grandissima comprensione. Per Aristotele, ciò è una conseguenza del fatto che l'essenza a cui ci riferiamo, via via, che si aumenta di astrazione, contiene sempre più forma e sempre meno materia. I concetti per Aristotele possono essere raggruppati in cinque classi, anche qua la vediamo velocemente, le cinque classi dei concetti, quelli che denotano il genere, la specie, la differenza, e poi le proprietà, gli accidenti. Qui, se vogliamo, possiamo raggruppare proprietà e accidenti da parte e genere, specie, differenza, una triade dall'altra. Perché il genere, la specie, la differenza definiscono gli accidenti riguardano le categorie e le proprietà riguardano appunto la sostanza. Le proprietà della sostanza, gli accidenti o categorie. Partendo a ritroso, gli accidenti sono quelli individuati dalle categorie, le proprietà riguardano la sostanza, genere, specie, differenza specifica, rendono possibili le definizioni. Quindi per Aristotele i concetti sono contenitori o generi e contenuti o specie di altri concetti in base alla loro universalità, cioè in base alla quantità di enti a cui si riferiscono. Nell'espressione animale razionale, animale razionale, animale indicherà il genere, razionale indicherà la specie. L'animale indica la genericità, razionale indica la specie, la specificità. Questo dovrebbe chiarire come per Aristotele le strutture del linguaggio, i soggetti, i verbini, gli aggettivi e i predicati corrispondano alle strutture del pensiero. E le strutture del pensiero corrispondano all'essere, un'identità di pensiero e essere. Del resto, discorso e ragionamento, come si dicono, sono due termini che in greco sono espressi a men due da un'unica parola, da logos. Anche per questo le due cose per Aristotele coincidono, ma ciò non è abbastanza. Il logos è infatti a sua volta lo specchio, riflette la realtà. Quindi il ragionamento e il discorso riflettono la realtà. I termini più semplici per Aristotele, la differenza fra nomi propri, prendiamo Socrate, e aggettivi, essere greco, non è una convinzione linguistica, ma corrisponde esattamente a una differenza fra gli enti. e dunque come ci deve essere un qualcosa che corrisponda a Socrate, ci deve essere un qualcos'altro, qualcosa di diverso, differenza fra enti, di diverso che corrisponda a greco. La teoria della conoscenza di Aristotele, quando si tenti qua, vediamo ancora i collegamenti, stiamo all'interno dell'opera De Anima, Peri Psichen, all'interno dell'opera appunto importantissima di Aristotele, il De Anima, di cui si parla di biologia che sappiamo essere non una branca parte, ma far parte della cosa, della dottrina, della fisica aristotelica, ma passa appunto alla biologia poi ad indagare il singolo bios, il singolo vivente, l'anima. Quindi la teoria della conoscenza di Aristotele, quando si tenti specificarne in maniera precisa i contenuti, è all'origine di molti problemi di difficilissima soluzione, soprattutto nell'ambito della teoria del linguaggio e del significato. A questo punto è possibile riprendere un tema che è rimasto sospeso quando abbiamo parlato nel precedente video dell'immortalità dell'anima, l'avevamo accennato velocemente. Questo perché se è vero che tale immortalità è recisamente negata da Aristotele, in quanto l'anima altro non è che la forma del corpo che è a sua volta materia, si apre quindi uno spiraglio alla vita eterna con l'intelletto. E qui i medievali si accaniranno appunto su questo, come dire, ingiganteranno, metteranno sotto l'ante l'ingrandimento appunto questo spiraglio che l'intelletto apre di fronte all'immortalità. E l'intelletto può essere nus d'unamei, cioè intelletto in potenza oppure nus poietikos intelletto che produce l'intelletto passivo potenziale o attivo in atto. L'intelletto passivo potenziale indica che quella facoltà potrebbe potrebbe portarci alla conoscenza ma concretamente non lo fa. L'intelletto in potenza non ci porta, può, può, può diventare, l'intelletto passivo può diventare tutte le cose. L'intelletto passivo ti dice tu puoi apprendere l'inglese ma di fatto non lo fai. L'intelletto invece attivo si riferisce al momento in cui tale possibilità si concretizza. Questa seconda quindi l'intelletto in atto attivo agente è poietikos cioè produce le cose e ti dice tu adesso stai apprendendo ed è questo che a un certo punto leggeremo velocemente sull'anima a cura di Gianna Antoni per vedere a che cosa si riferisce. Secondo quindi si riferisce al momento in cui tale possibilità si concretizza. L'intelletto attivo dunque illumina è l'intelletto che illumina l'intelletto passivo potenziale. siamo comunque ripetiamo lontani da Platone per il quale l'intelletto era un'intuizione il nus platonico è come dire sorpassato completamente con queste specificazioni aristoteliche. Quindi ribadendo la facoltà razionale per Aristotele è articolata in due momenti un intelletto passivo rifacendosi all'identità di pensiero essere questo essere come dire di base intelletto passivo che può diventare tutte le cose ti dice puoi apprendere intelletto attivo che produce poi eticos tutte le cose ed è come illumina quello passivo apprendi e attenzione è separato in che senso c'è pertanto un intelletto analogo alla materia perché diventa tutte le cose e un altro analogo alla causa gente perché le produce tutte al pari di una qualità definita come la luce perché in certo senso anche la luce fa i colori in potenza colori in atto la luce fa i colori in potenza colori in atto illuminano questa metafora della luce che ritorna e questo intelletto è attenzione separato sta parlando intelletto attivo l'intelletto attivo è separato ma non è separato perché sta in un iperuranio è separato dalla materia dalla materialità in questo senso qua separato in misto in passivo per sua essenza è atto e infatti la gente è sempre più eccellente del paziente e il principio è sempre più eccellente della materia ora la scienza in atto è identica al suo oggetto la scienza in potenza è anteriore nel tempo in un individuo ma assolutamente parlando non è anteriore nel tempo pertanto non si può credere che questo intelletto talora pensi talora non pensi separato sta parlando intelletto attivo esso è solo quel che realmente è e questo solo questo solo attenzione lo spiraglio sui quali i pensatori cristiani e la scolastica al quale si attaccheranno eccolo qua e questo solo è immortale e eterno no Aristotele che nega l'immortalità dell'anima decisamente però dice di questo intelletto attivo che è immortale e eterno e qui giù il medioevo tutti i medievali a scervellarci su questa cosa qua per cercare di far di salvare Aristotele e cavoli per cercare di traghettare Aristotele nella cristianità si può perdere il maestro di coloro che sa separato esso è solo quel che realmente è e questo solo è immortale e eterno e noi non ricordiamo perché è impassivo mentre l'intelletto che può essere impressionato cioè l'intelletto passivo è corruttibile e senza questo non pensa niente quindi l'intelletto vi ricordate prima dicevamo l'intelletto attivo illumina l'intelletto attivo in questo senso questo passo tuttavia rimane piuttosto ambiguo signori ci sono contraddizioni gigantesche anche in Aristotele certo noi possiamo sciogliere non possiamo sciogliere i nodi in un brevissimo rapidissimo video sintetico di venti minuti tuttavia rimane piuttosto ambiguo e in epoca medievale ha dato adito a molteplici interpretazioni di cui ancora non si riesce a capire quale sia la più corretta e qui ci ragioneranno sopra per parte musulmana il persiano avicenna l'arabo averrois che è il gran commento feo di Aristotele il gran commento e i cristiani Alberto Magno San Tommaso Aquinate tenteranno di correggere queste teorie che negavano l'immortalità dell'anima alla luce appunto della Catechesi par excellence che dice che l'anima non è creata dal padre e dalla madre ma è creata dal padre di tutti che è Dio ed è assolutamente immortale